Un saluto a tutti. Oggi ho una sorprendente anticipazione turca da condividere con voi. Una tragedia che scuoterà profondamente ogni abitante della città. Dopo lunghi mesi di dolore, Zulia finalmente prende coraggio e chiede il divorzio a Demir, rivelando a lui che il Maz è a conoscenza della vera paternità di Adnan. Questa rivelazione darà il via a una guerra tra i due, ma saranno le imprevedibili conseguenze a lasciare tutti senza parole. Prima di proseguire, se il video vi piace, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara. E ora, ripartiamo. Durante una discussione accesa, si udì uno sparo provenire da una stanza vicina, e scoprimmo che è restato il piccolo Adnan a premere il grilletto. Ma torniamo indietro. Durante una cena nella villa, il Maz chiede il divorzio a Mujaygan, che reagisce negativamente alla notizia. Nel frattempo, Demir regala a Zulia un ciondolo con la scritta, Yaman, ma lei lo rifiute. Poco dopo, la tensione nella villa aumenta e Demir chiede a Zulia dove intende fuggire con il Maz. Sentendosi forte, lei conferma che il Maz sa che Adnan è suo figlio. Demir, furioso, perde completamente il controllo. Il giorno successivo, Demir organizza la cerimonia di circoncisione per il piccolo Adnan, invitando tutto il paese. Il Maz, venuto a conoscenza di questo, si reca alla villa per affrontare Demir e rivendicare la sua paternità su Adnan. Una volta lì, Il Maz punta la pistola contro Demir, incoraggiato da lui a premere il grilletto. Nel frattempo, Zulia, nelle vicinanze, cerca di fermare Il Maz, mentre Ankar si mette in mezzo. Improvvisamente, si sente uno sparo provenire da una stanza e tutti si precipitano sul posto, trovando il piccolo Adnan a terra accanto alla pistola di Demir. Il bambino viene immediatamente portato in ospedale e tutti sono ansiosi di sapere le sue reali condizioni. In seguito, Zulia scopre che Adnan dovrà essere operato da Mujaygan e si preoccupa che possa farle del male. Zulia è talmente infuriata che si scaglia contro Demir e Il Maz, facendo loro capire che sono i responsabili di tutto ciò. Adnan lotta tra la vita e la morte, e Mujaygan, vedendo la reazione di Zulia, chiede aiuto a Fekeli. Nel frattempo, giunge la notizia che Ammin è scomparsa dalla villa. Dove sarà finita? Adnan riuscirà a sopravvivere? Lo scopriremo nella prossima anticipazione. Quindi, se non volete perderla, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. A presto!